Avviso di sicurezza Microsoft, numero DW6WDI36. Il tuo computer ci ha avvisato di essere stato infettato con Trojan Critici. Questi virus stanno inviando i tuoi dettagli di carta di credito, le credenziali di accesso Facebook e dettagli privati e personali agli hacker tramite indirizzi IP remoti. Per favore chiamaci immediatamente al numero verde elencato in modo che i nostri ingegneri di supporto Microsoft possano illustrarti il processo di rimozione telefonicamente. Se chiudi questa pagina, prima di chiamarci, saremo costretti a disabilitare il tuo computer per impedire ulteriore danno alla nostra rete e spediremo copie di questo rapporto alla CyberSecure.